Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino e per un veicolo in avaria sulla direttissima tra Aglio e Badia. Fare inoltre attenzione per nebbia a banchi segnalata sulla A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento per l'Aurelia. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione e restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla Statale 64 Porrettana, all'altezza della Galleria del Signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. La viabilità cittadina a Firenze in Viale Amendola per lavori chiuso il controviale tra Via Giotto e il numero civico 48. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!